Bentornati su MyFootballJersey. Euro 2024 si avvicina sempre più velocemente e quindi vediamo le maglie delle nazionali che vi prenderanno parte. Questa è la contamaglia della Germania in edizione Player. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La maglia è molto bella, non piacerà a tutti perché ha colori un po' particolari, alcuni potranno definirli femminili. Secondo me è stupenda e se uno ha il coraggio di indossarla farà un figurone. Il costo molto basso, qualità veramente veramente molto buona e ottica. ultimi tempi di spedizione. Questa è arrivata in 25 giorni. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate della maglia e quale altre maglie vorreste vedere. Iscrivetevi al canale! Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!